Teo, Susukuro, Zuki, Gran Vitara, il gruppo ufficiale Suzuki Grandissimi campioni che per la prima volta parteciperanno qui in Sardegna al sedicesimo rally del Verbettino A domani! Grazie a tutti! 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 a tutti! a tutti! Grazie 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 a tutti! Un bel applauso per Anasso Giuseppe e Cancelli Alessio! La gara è bella, bellissima! Margherita, vieni! Anche da dietro ti fanno gli applausi! Che bello, vi siete divertiti? Com'era il percorso? Bello? Divertente? Sì, sì, molto bello! Com'è andata ragazzi? Un bel applauso! Un bel applauso!